buongiorno a tutti io sono avanzato salvatore e con questo video vorrei contribuire personalmente a formire uno spunto per un allenamento speciale nel quale tutti dovremo impegnarci al massimo delle nostre energie delle nostre energie un allenamento speciale per persone speciali loro sono i nonni gli anziani perché se la situazione contingente è difficile per tutti per loro lo è ancora di più quest'allenamento prevede quattro esercizi il primo esercizio è quello che genericamente chiameremo del dire ecco dobbiamo parlare più spesso con i nostri nostri mostrargli il nostro affetto affinché non pensino mai di essere soli e se situazioni della vita come quest'ultime ci allontanino da loro tutto il bene detto e mostrato li seguirà per sempre e ovunque il secondo esercizio passiamo al secondo esercizio è quello del ringraziare vedete nel tram tram della vita ogni tanto dobbiamo fermarci e sentire semplicemente il bisogno di dire grazie non è così e allora alleniamoci a dire grazie ai nonni grazie per averci aspettato fuori dalle scuole grazie per averci portato la merenda grazie per averci aiutato a fare i compiti grazie per averci portato in palestra accompagnato in palestra ed averci seguito nei nostri successi sportivi aiutandoci e spronandoci e quindi diciamo ai nonni grazie di tutto il terzo esercizio è quello che definiremo della valorizzazione bisogna restituire pregio alla figura degli anziani alla figura dei nonni e deve essere un valore dettato dalla consapevolezza del ruolo che loro hanno svolto prima con i genitori e poi con i nipoti come custodi e supporto della famiglia come patrimonio inesoribile di affetto e di esperienza ecco dopo questi tre esercizi passiamo all'ultimo esercizio questo ultimo esercizio ma non ultimo per merito è quello che definiamo dell'importanza ricostituiamo l'importanza dei nonni all'interno delle nostre case delle nostre tavole ecco restituiamo il posto del capotavola perché possano portarci a me la memoria dei pasti precedenti quali depositari della della storia della nostra famiglia perché non può esistere una famiglia se non abbraccia i suoi ricordi le sue radici ed ora dopo questi suggerimenti alcuni esercizi pratici buongiorno sono cardevo di davide istruttore di ginnastica posturale presso la palestra lucchese di faenza e collegando i quattro principi di cui ha parlato molto bene il tecnico della notte salutatore e l'assalto che sono la base della salute psicofisica dell'anziano passiamo ora alla visione di una miniserie di esercizi pratici lo svolgere anche in casa come primo esercizio possiamo fare questo portare avanti e indietro la palestra ispirando ed espirando ispirando ed espirando ispirando in modo tale da rinforzare anche un po' i rombari ed espirando esercizio seguente lo svolgiamo a terra schiena a terra gambe flesse bruciate comodamente da questa posizione espirando solleviamo lentamente il bacino torniamo e di nuovo ripartiamo quando solleviamo lentamente il bacino cerchiamo di sollevarlo una vertebra alla volta lentamente fino ad arrivare alla zona tra le spalle ritorniamo e riprendiamo come ultimo esercizio invece prendiamo le ginocchia e ce le portiamo al petto espirando in modo tale da allungare la zona vertebrale e da schizzare la zona lombare verso il pavimento questo è tutto arrivederci a tutti buon lavoro grazie a tutti